Salve a tutti ragazzi qui è BangWrat che vi parla Oggi sono tornato con un nuovo video su Black Ops 2 Non so quando questo video uscirà perchè lo sto registrando sempre di mercoledì Come l'altro video o quello che ho postato lunedì Tipo che non so se era l'1 o l'2 di agosto Comunque si vabbè in pratica mi sto cercando di portare un po' avanti con i video E boh sperdittare qualche clip anche se so che sarà dura Uno, due, tre, no! Let's go! Non so perchè mi sento che devo assolutamente usare un'arma strana oggi Quindi ballista, COG, ci proviamo Il mio lino però l'ho lasciato normale Quindi c'è ancora possibilità di far clip Anche se tipo l'ultima volta che ho fatto il ballista COG Era un giorno ma proprio anni fa Che ero ancora su Playstation prima di passare Xbox E tipo avevo messo l'ACOG Di un Akamo DLC Era assurdo Tipo con lo tsunami Era tipo No era una roba strana Mi ricordo come cazzo era Era bellissimo No Però sto giocando bene con l'alco Sembra facile Quando non prendi certi colpi È una rabbia proprio totale Due No Ho sbagliato a sparare a questo Guarda la solita sfiga Tre Quattro Uno Due Please collatera No c'è Uno Due Tre che non mi dà Quattro che non mi dà Questo che non mi dà Grazie Non è con l'altra letshot L'ho mancato letshot Triple feed headshot E vabbè Vabbè dai Triple feed headshot Di Akog Ci sa La merda Perché ho sbagliato il colpo Però Oddio Due No ragazzi Aiuto Oddio Era collato Era il puto far five on Con le fumogene Due Tre Ma Hitmarker alla quad feed Ok Anche se era un po' lenta Però Ma quanto fai schifo a giocare Dio porco Peggiore sniper No Mi distrugge ancora lui Con Remington eh Con Remington di merda Mi distrugge Con Remington Mi distrugge Non entrai mai nei gtf Yokane Blacklistato Porco dio Maledetto te Fermi un attimo Mettiamo l'xpr E cominciamo a giocare Come un cancro Podfield infatti Prima vita di xpr Li ho distrutto tutti Coglioni di merda Oh mio dio Non mi dà le collate Ma quella è immortale Guardatelo Quello 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 è ancora tutti lì eh Oh mio dio Poteva essere triple edge At quella Però no Cioè ok Ma questo è immortale Però Collateral Singola No vabbè No vabbè Quella singola A caso Non me l'avrebbe mai data Se non me l'avessero splittata Collateral Cioè Come Ha fatto A non darmi quella kill Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Ho fatto due clip Una con l'acqua Una con l'xpr Niente di che Comunque sia Penso ci beccheremo Con un prossimo video Non so quando Di preciso Perché adesso devo vedere un po' Come sistemarmi Con gli upload Ricordatevi sempre Che io sono in vacanza E quindi non riesco A rispondere ai vostri commenti O magari rispondo soltanto A qualcuno Perché comunque Sarò in hotel Magari avrò anche il wifi Devo vedere Quanto tempo riesco Comunque a stare A leggere i commenti Comunque cercherò Di stare A leggere I vostri commenti E anche in fanpage A rispondere ai vostri messaggi Il più possibile Io vi saluto Vi ringrazio E ci becchiamo Al prossimo video Bella